Una delle tecniche più affascinanti per la pesca della regina dei nostri mari, la spigola, è lo spinning. Questa è la nostra proposta dedicata appunto alla pesca spinning alla spigola. Una canna Rapture Droid Blue Water è un mullinello trabucco mito SRX FD 4000 del valore commerciale di oltre 160 euro a soli 119,90 euro. La Rapture Droid Blue Water è presentata in questo caso in versione Sea Bus e Long Jerk. È una a due pezzi specifica per la pesca spinning alla spigola. È lunga 8 piedi, quindi 2,4 metri. Ha una potenza MH, quindi un grezzo abbastanza rigido con una leggera azione di punta. Una potenza che va da 7 a 35 grammi, perfetta per la gestione di minno, Long Jerk e anche Metal Jig. Ha 9 anelli, tutti Sea Guide con trattamento anticorrosione e profilo Il trabucco mito SRX FD 4000 è perfetto per la Droid Blue Water. Pesa 320 grammi, ha un rapporto di recupero di 5 a 1 a 1, 80 centimetri di filo recuperati per ogni giro di manovella, una capacità di 250 metri di monofilo 0,30 mm, una bobina extra e 5 cuscinetti a sfera più uno a rulli. Molto fluido, di colore bianco, è un abbinamento perfetto anche dal punto di vista cosmetico. Ricapitoliamo, la canna Droid Blue Water e il mulinello Mito 4000 comodamente a casa vostra a soli 119,90€ senza alcuna spesa aggiuntiva. Ma c'è di più, perché in omaggio insieme a canna e mulinello riceverete l'artificiale Lubina, un Jerk sinking, quindi affondante, che lavora fino a 1,2 metri sotto la superficie dell'acqua, perfetto per la ricerca della spigola, dei serra, delle lecce e di tutti i piccoli pelagici che nuotano sotto costa. Il combo per la pesca spinning alla spigola vi aspetta a soli 119,90€ su sportit.com. Bastano un click e una semplice telefonata. Spedizioni e reso sono gratuiti. sportit.com